3, 2, 1, via! Parte anche la seconda batteria della categoria G2 Valle Sabbia, Otelli, Rodengo Saiano e Monte Clarense guidano il gruppo in questo primo giro Sembra un canarino, sembra un canarino E' un gatto più potente e proprio l'odorino I gatti del cortile si tappano il nasino E' un gatto così nero che sembra cali nero E' un portacolori della Nuvolento ora che si porta in testa a dettare l'andatura Lo seguono a ruota Otelli, Monte Clarense, Rodengo Saiano e Sopra Zocco Intanto, nelle retrovie, cominciamo a vedere i primi cedimenti Ultimo giro e Monte Clarense e Otelli provano ad andarsene, ma il gruppo subito risponde E sotto lo striscione d'arrivo piazza la sua ruota davanti a tutti Gazzoli Michele della Otelli, che superavventurelli Andrea della Sopra Zocco Pastorelli Filippo della Monte Clarense Pellicardi Nicolò della Otelli e Liberini Corrado del team Valle Sabbia Pia, 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 Pia Gatti sei simbatico ma vatti un coppia in là Pia, 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 Pia Pia, 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 Pia